Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 20 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Ottimo umore grazie al sestile luna Giove. In una botte di ferro, anzi di bronzo, il metallo attribuito dalla tradizione al grande Giove, ben piazzato nel vostro segno, quest'oggi in sestile non alla luna cancerina, dolce e voluttuosa, ma anche a Saturno che oggi stesso si appresta ad accogliere il sole nel segno amico dei pesci. Magari l'energia non è al top, ma sempre per via del vostro potente inquilino preferite nascondere le vostre debolezze dietro al suo scudo regale, che vi fa sentire al sicuro. L'essenziale è salvaguardare la serenità e mettere d'accordo il vostro mondo sociale, anche a costo di rinunciare a prendere posizione, riguardo all'attualità le vostre opinioni sono ben strutturate, ciò nonostante non respingete i pareri altrui, li ascoltate con attenzione, su certi fronti ci si può sempre ammorbidire, correggendo almeno qualche sfumatura. L'amore è romantico e spesso platonico, sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo, l'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I singli incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. Oggi è l'occasione giusta per prendere una decisione definitiva, prendete il coraggio a quattro mani e chiedete quel chiarimento che desiderate avere da tempo con il vostro ex. Se non lo farete subito potreste non averne più l'occasione. Oggi se ancora non hai trovato la persona adatta a te, la serata si presenta favorevole per l'inizio di un nuovo e valido rapporto. Problemi di incomprensione con parenti e cari, oggi potrebbe essere di quelle classiche giornate ottime per rifugiarsi nel proprio angolino e aspettare che i venti passino. Provate oggi a sforzarvi di credere più nell'amore, anche se avete ricevuto molte delusioni in passato, dovreste soprattutto abbandonare l'idea che il peggio capiti sempre a voi. Avrete a breve le vostre opportunità. Per quelli che hanno subito o stanno per subire una delusione in amore, sappiano che presto ci saranno importanti novità in tutti i campi. Per i single è il momento della rinascita. Segnali di una certa ripresa potrebbero finalmente affacciarsi dell'orizzonte, avete lottato, sperato e resistito fin qua. Ora inizierete lentamente a vedere le cose in modo diverso e Giove favorirà gli aiuti necessari per risollevarsi. Oggi dovrete davvero fare esercizio di pazienza per sopportare una persona che può essere un collega o un parente. Meglio essere diplomatici in modo da non compromettere i rapporti. Cambiamenti d'umore, di idee, di piani. Situazioni piacevoli in casa. Possibilità di spostamenti, raduni con parenti stretti, comunicazioni di ogni tipo. Non fate aspettare molto le persone che da voi attendono una risposta, qualunque sia da tela in tempi ragionevoli. Giove e Nettuno, Luna e Saturno occupano punti dello zodiaco per voi molto congeniali, il vostro segno, quello dei pesci e il cancro e vi predispongono a una giornata senz'altro positiva, specie da un punto di vista affettivo e familiare. Qualche attenzione va riposta ad alcune concessioni gastronomiche, che non riuscite proprio a limitare. Molti di voi non sono proprio in grado di portare a termine una dieta o proprio con ce la fanno a cominciarla. Giornata magica, con la luna in se stile al vostro segno, abitato da Giove ottimista e speranzoso, a sua volta in relazione amichevole, vale a dire in se stile, a Saturno in pesci, raggiunto stamani dal sole. In breve, meno battaglie, meno grane e più appoggio e ascolto da chi vi vuole bene, parenti e amici tifano per voi. Amore ed Eros L'amore è un sentimento spontaneo che vi sgorga dal cuore, lo riversate sul partner, sui figli, su chiunque vi sia caro, ma un pochino lo riservate anche a voi stessi, perché chi non è capace di volersi bene non ne può volere nemmeno agli altri. Urano e Giove in congiunzione benefica per voi Toro rappresentazione la combinazione perfetta per una giornata in cui potete coronare alcuni piccoli, o grandi, sogni d'amore. Se siete nati in aprile il Dio della fortuna, Giove, vi assiste, consentendovi di rassodare storie cominciate da poco tempo e proseguirle sotto ottimi auspici astrologici. Se siete nati nella terza decade rimanete ancora un poco in campana e non vi fate frastornare da avventure fugaci. Lavoro e denaro Insegnamenti utili e nuove esperienze incontrate cammin facendo, viaggiare vi apre la mente a nuovi interessi, vivrete emozioni destinate ad arricchirvi interiormente. Fortuna un esame o in viaggio, dopo un percorso tutt'altro che facile. Ma come insegna il proverbio chi la dura la vince. Oggi, alla notizia che un nuovo impegno vi sarà dato, non fate una piega, anzi pensate immediatamente a come organizzarvi, vi muovete, in men che non si dica, per non restare impreparati. La fatica e il lavoro, si sa, ha un segno come il vostro non fanno mica paura o scoraggiano. Tutto questo più in evidenza se siete nati nella seconda decade. Benessere Immagine curatissima, forma smagliante cuore appagato, una magica tripletta che apre magistralmente la nuova settimana. Per elevare questo numero all'ennesima potenza ricorrete alla magia del colore, indossando i colori dei fiori primaverili, rosa, azzurro, verde, particolarmente adatti al vostro segno. Denaro I vostri risparmi attendono di essere investiti o comunque i conti devono essere aggiornati e rivisti. Prendetevi il tempo necessario per organizzare il quadro e non fate passare altri giorni. Per lei, inutile insistere, l'amico del cuore ha parlato chiaro, amicizia punto e basta, oltre quello non si va. E allora? Cambiate preda. Per lui, di impegni e affari ne avete abbastanza, non vedete l'ora di correre a casa e rilassarvi, prima una lunga doccia, poi una pizza guardando un film. Piaceri frugali ma sani. E poi a nanna presto. Colore delle emozioni, verde erba. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.